Dagli arresti domiciliari e con il divieto di contatti con l'esterno ha continuato a gestire l'attività e per questo l'imprenditrice cinese di 52 anni accusata insieme al marito anche lui e ai domiciliari e a un altro connazionale di sfruttamento del lavoro è finita in carcere. Il tribunale nel giro di poche ore ha accolto la richiesta di aggravamento della misura cautelare presentata dal sostituto Lorenzo Gestri, titolare dell'indagine condotta dalla squadra mobile della Questura di Prato. Ai domiciliari dal 9 febbraio la donna ha continuato ad occuparsi dell'azienda la confezione Giulio con sede a Galciana in via Pieraccioli telefonando ai clienti e dando loro indicazioni sul ritiro dei capi di abbigliamento già finiti non immaginando evidentemente che gli investigatori sono ancora al lavoro dentro la ditta e sono stati proprio loro ad aprire la porta ai committenti e a scoprire le violazioni al regime degli arresti domiciliari. La 52 anni il marito il titolare formale della confezione quest'ultimo sottoposto al divieto di dimora in città sono accusati di aver sfruttato la mano d'opera di una trentina di operai pakistani, bengalesi e afghani quasi tutti richiedenti asilo. Meno della metà i lavoratori con un contratto part-time a nero tutti gli altri, turni di 13-14 ore al giorno senza riposo settimanale per uno stipendio di nemmeno 1000 euro al mese. Operai in condizione di bisogno perché con permessi di soggiorno a breve termine senza possibilità di pagare un affitto e di rendersi autonomi dai datori di lavoro. Datori di lavoro che garantivano anche vitto e alloggio in un appartamento confinante con la ditta sovraffollato e in uno stato igienico sanitario più che degradato. Gli accertamenti sono ancora in corso anche allo scopo di quantificare il giro d'affari della confezione Giulio che secondo le indagini non si sarebbe mai fermata neppure nelle settimane delle prime strettissime restrizioni nazionali dovute all'emergenza coronavirus.